La pasta migliore è prodotta con materie prime di qualità, a partire dai grani duri migliori, di colore giallo tenue, un colore che permane in tutte le fasi della lavorazione. Il grano affronta la fase di analisi in laboratorio, superando i controlli più rigorosi, che comprendono l'analisi della forma e dell'aspetto dei chicchi, che devono avere una forma regolare senza macchie e imperfezioni. È importante anche la verifica del glutine, che viene sempre effettuata a mani nude. I grani scelti vengono in seguito miscelati fino ad ottenere la qualità migliore.